Se una cosa non la trovi a Hong Kong vuol dire che non esiste, è vero? Tra due giorni ci sarà la prima esclusione da questo grandissimo viaggio. Bye bye! A presto! A presto! Siamo venuti a rendere omaggio alla tomba del gran maestro Hitman. Hitman famoso perché è stato il maestro di Bruce Lee. In occidente è il più conosciuto perché chiunque conosce Bruce Lee. Il nome di Bruce Lee viene così. La chiave sta nel muoversi meno, non nel di più. Quindi tutte le coreografie che facciamo, più sono ampie, più sono acrobatiche, meno sono efficaci. Sono propedeutiche per capire ciò che corpo fa. Il movimento diventa sempre più corto, sempre più piccolo fino a diventare quasi non movimento. Però è difficile capirlo dall'esterno perché tu vedi magari una persona che fa dei movimenti veramente lenti, veramente corti e non si vede cosa c'è dentro. Quindi bisogna partire dal grande per arrivare al piccolo. Come a palleggiare, no? Dobbiamo partire con un bel pallone grande come poi c'era Maradona che con un mandarino palleggiava tranquillamente. E credo che il compagno è quasi perdita. Perché se guardate il libro, il classico, tutto è perdita. E' un misogliamento delle parole. La traduzione. Tentiamo provare almeno un po' di Kung Fu. Molto. Questo è molto. Sono qui. Questo è il movimento. Questo è il movimento. È una sensazione. È una sensazione. È una sensazione. È un po' di cuore. È un po' di cuore. È un po' di cuore. È come un battero. È un po' di cuore. Sì, esatto. Questo è lì. La nomina di Sifu ha vincito a Sem. Oh, Sifu Sem. Oh, Sifu Sem. Sifu Sem. Andi. Ok. Andi. Sifu Sem. Sifu Sem. Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti